Ad una settimana da rientra scuola di tutte le classi delle elementari alle quali poi si sono aggiunte anche le medie, il covid non arretra la sua corsa. I contagi non mancano e al rilevamento di casi positivi saltano i programmi dei dirigenti obbligati a sospendere la didattica in presenza qualora alunni, docenti o personale scolastico vanno in quarantena. Con il passare dei giorni i casi di positività nel mondo della scuola non mancano e cominciano a destare preoccupazione anche se è chiaro che con il virus bisogna ormai convivere. Un gran silenzio e dolore quello che regna nei corridoi della scuola Salvatore Quasimodo di Via Limongelli nella zona orientale di Salerno dove il corpo docenti piange la scomparsa del professore di matematica deceduto a causa del covid, un contagio che sembrerebbe avere origine da un contatto con l'abbadante che assisteva la madre deceduta a sua volta l'altra notte. Contagio in famiglia che ha strappato la vita anche al cognato del docente della scuola media di Pastena. Tre decessi nel giro di pochissimi giorni nello stesso nucleo familiare. La notizia ha destato grande preoccupazione nell'intera comunità scolastica ma per l'istituto non è scattata alcuna restrizione in quanto il docente contagiato da tempo non aveva fatto rientro a scuola. Positiva al covid anche un insegnante di sostegno della scuola Matteo Mari di Salerno che si aggiunge al contagio della sorellina di un'alunna che ha obbligato la dirigente a sospendere due classi dalla didattica in presenza con prosieguo in dad. Positivo al covid anche il papà di un alunno che frequenta la scuola media Lanzalone nel centro storico di Salerno. Il figlio e l'intera famiglia in quarantena. Anche al plesso del parco Arbostella della scuola Rita Levi Montalcini di via Wagner si registra un tampone positivo per una collaboratrice scolastica ed un'alunna. Questa ad oggi la fotografia della diffusione del virus delle scuole anche se si registra allo stesso tempo molta discrezione e fermezza nel rivelare la positività dei casi nelle scuole. Restano dei concetti fondamentali comunque da tener presente. Essere positivi al covid significa anche impegnarsi ad adottare comportamenti prudenti nell'ottica della correttezza di tutelare la salute di tutti della comunità scolastica coinvolta. Se uno studente o altro personale risulta positivo al coronavirus i contratti stretti vengono posti in isolamento domiciliare fiduciario.